Ma hai aggredito mai te e quest'altro? No, no, oh, ecco! Ma tu hai aggredito? Deficente! Ma lascia stare! Pulisci lei! Guarda, faccia poco! Non fa mai i loro segni! Andiamo a fare la cazzata! Andiamo a fare con questo, dai! Vediamo tutti i dati! Prima mi invidi? Che mi invidi a fare? Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Ma hai tagliato! Eh sì! No, cazzo! Ma hai tagliato! Chiama l'ambulanza! Vaffanculo! Che è quel telefonino? Te mi assi del cazzotti! Ce l'hai se c'è rotto! Ce l'ha tagliato! Ma guardami! Io l'unghia non ce l'ho, non sono stato io! Ma fatte l'affanculo che mi avete mettere le mani addosso! Affanculo, va! Testo strunzo, guarda! Pure! E' una cosiddetta! E' una cosiddetta! No, ma non continua perché io chiamo la polizia! No, vattene!